e bentornati in un nuovo video allora questo video non lo volevo fare perché abbiamo preso la nonna lucia ha preso qualcosa su vinted e su vinted non mai ciao vinted mi ha preso il cervello su shane scusate e ci ha regalato qualcosa anche a noi però ho detto vabbè dai per due cose solo che ha preso qualcosa la nonna lucia che volevo farvi vedere e lei lei ti doveva stare zitta nonna ti devi stare zitta allora andiamo all'apertura allora questo no no aspetta con scusami è allora io a questo qua è l'etichetta del reso cos'è ma questa è la maglietta una maglietta presa col bis qua qui ah carina e retinato allora questa che taglia è perché c'è l'abbiamo prese tre così allora due xl tutto uguale sì quella che taglia è questa è la mia allora dove l'hai letto? è dentro un xl allora questa è quella della no questa è la due xl quella è un xl bella bella ma di che corte nera col buco qua la fessura ma sai che mi sa che ne manca una? no 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 guarda questa questa ciccia bella e ce n'è un'altra qua adesso questa ma ma tu ci sono tutte e tre uguali eh ma una per me una per timone e una per me una basta due xl è un xl della nonna allora ok ciao metti via vabbè metti via tutto poi farà vedere ho preso sto vestito ma ho visto che è un po' trasparente nel ruoto eh però mi piaceva cos'è questa roba qui? che trasparente ma cos'è? che è un era un vestito ma è un po' trasparente ma di chi è? ma cos'è un asciugamano del mare? un pareo? che trasparente oh madonna ma mi piaceva ma mi piaceva è trasparente ma mi ricorda perché è lungo però è trasparente ma ma come è trasparente? vedete tutto? è trasparente ma no ma vedendo tutto il tuo bargiabanni poi è spentissimo ti metto tantissimo non c'è sei crettina sono due crettina vabbè andiamo avanti ah sì ho preso questo per la macchina perché l'altro l'ha sbucciato e ne ha presi due di scorta giustamente la colla le ciglia la colla per appiccicare le ciglia le ciglia le ciglia la mutanda ma sono questi? è la mutanda? non so se no ma è la mutanda dov'è? scusa cos'è? questa roba qua è la mutanda fettata ma è un po' grande doveva esserci pure la mutanda ma a che ne va? ma è un diseno per i lottatori di sumo eccoci qua eh a che ne va? ma perché? ma l'avevo preso la taglia piccola scusami eh questo è il dietro e questo è il davanti sì ma deve essere pure la mutanda non c'è io se hai preso per strada se l'hai rubata e se l'hai messa a fattolino non c'è eh vabbè è un po' giga e dorme devo portare il dorme allora ah quello lo lasci per la botta finale? ma tu puoi aprire madonna? l'ho fatto da qua è la cosa del cavallo ma di me è stato il tuo colore di capelli? ah perché si sono schiariti i miei è vero non sono più neri ah e questo cos'è? e come cos'è? aspetta voglio vedere e come lo metti? è perché ho preso nera ma lo metti con la carta? no non lo metti con la carta ah nell'altro vabbè è una cosa lunga ma falla vedere però non è il mio colore adesso perché non ce l'ho più neri e questo è il completo della nonna nonna ecco il tuo completo che hai preso non so dove tu te lo devi mettere in che circostanze te lo debbi mettere ma questo è il tuo completo questo è l'aspetta la schiena c'è un laccettino lo vedi? è tipo il tanga e qua è tutto trasparente senti mamma per vedere le tue curve e leopardato qua entreranno le tue mozzarella ci stanno mamma e questo non lo rompi no non lo rompo non ho paura di romperlo non è il figo se no la nonna poi mi picchia eccolo qua adesso mi devi spiegare che cosa ci devi fare con questo coso? dove devi andare? è un appunto vento galante è tutta la sua rente le ho portate per fare come unghie fitte e sapere sui occhi dove vai? è tutta la sua rente qua mamma ce la sono reggiseno io pensavo che c'era pure questa mutanda qua 7 euro oh la madonna 7 euro? non mi sta nemmeno il toposo perché è troppo grosso? ma sì ma magari ti sta dai vabbè ti piace mamma? te lo porteremo domenica Pasqua domenica siamo da te Pasqua e te lo portiamo così lo puoi indossare poi ci fai vedere la foto di come ti sta messo ma vabbè no devi fare per scene ah devi fare per scene già giusto c'è ragione c'è ragione ma io io adesso io dico adesso io io dico adesso cosa ti servono questi completi? dove devi andare tu questi completi? allora lei già mi immagino la sua risposta ma cosa ti rinvita a te? saranno solo fatti i miei e niente buona basta però volevo provare la maglietta la maglietta la provo vado di là però eh oh dove vai? vado a provare chi ce la fa? basta eccola qua questa è la maglietta com'è? non bella bella eh? ah 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 beh con questi pantaloni no però ok mi piace mi piace sì ma devo tagliare questo posto perché se no gratta di nuovo questa è la taglia sì porto così 2XL tolta qua tanto so che adesso ce le scambieremo perché abbiamo tuttavia i 2XL la nonna perché è più piccolina l'ha 1XL ma è elasticizzata sì ma mi sa che l'è un po' da rapide perché doveva prendere la stessa non so ma sei tu che fai vibrare tutto bene no sì con la un di attacchi lo mettiamo basta fare basta basta dai basta bene con questo video è tutto spero che le cose vi siano piaciute sì vabbè non ce l'ha le cose non volevo fare il video ma l'ho voluto fare solo per questo mamma sappi che ti prenderò in giro da mo' fino a dieci anni bene con questo video è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video video ciao domani registriamo ciao